Scuola di Gemiti parte 3 Presentando il futuro dei Gemiti Fottiti A cura di Giuseppe Castiglione Il professor Giuseppe Castiglione Salve Prima volta Batte la chiappa Se no Pisa Monta le parti comodi Immagina come una ragazza va su da sopra E tu fai Oh 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 Se no immagina una ragazza qui messa a 90 Prende però il chiave Oh 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 Poi come se Continuiamo Nostro giove Scuola di Gemiti parte 3 Finita Finita